Santa Caterina 1347-1378 Con un gruppo di discepoli e discepoli che l'avevano seguita giunsi a Roma il 28 novembre 1378 per ordine di Papa Urbano VI. Il Pontefice cercava di radunare intorno a sé i servi di Dio per porre un'argine allo scisma che aveva avuto inizio il 20 settembre 1378 con l'elezione di Roberto di Ginevra, l'antipapa Clemente VII. Passerà la storia come il grande scisma di Occidente 1378-1417. Fra la Minerva e Campo dei Fiori nella strada allora denominata Via Pape, attualmente Piazza Santa Chiara, è collocata la Cappella del Transito di Santa Caterina da Siena, piccolo gioiello di arte barocca. Per Via Pape o Via Papalis si intendeva il tragitto che il corteo papale percorreva da San Giovanni in Laterano alla Basilica di San Pietro, dove il Pontefice la domenica successiva alla sua elezione era consacrato. L'appartenenza dell'edificio che ospitò Santa Caterina e i discepoli è evidenziata dall'affresco raffigurante l'annunciazione che sormonte il portone d'ingresso, mentre a fianco una lapide marmorea attesta che Ivi dimorò la santa e sulla parete destra dell'entrata un'altra lapide ricorda il sesto centenario della sua stigmatizzazione. La trasformazione della stanza di Caterina in cappella fu fatta nella prima metà del XVII secolo. La denominazione Cappella del Transito di Santa Caterina da Siena si deve alla professoressa Giuliana Cavallini, studiosa di fama internazionale della Senese. La cappella si presenta di modeste dimensioni. Sopra l'altare è posto un dipinto della santa in orazione. Sulle pareti laterali sono presenti cinque raffigurazioni riguardanti diversi episodi della sua vita. Caterina dona la sua croce d'argento a un povero, sceglie per sé la corona di spine, ha una visione del padre tra Cristo e San Domenico, riceve le stimmate, scambia il suo cuore con quello di Cristo. Alle due pareti laterali vi sono due monumenti sepolcrali in marmo. Dell'ambiente originario rimane visibile soltanto il soffitto ligno, le cui travi rappresentano la parte più preziosa della cappella. Sappiamo che nella stanza Caterina trascorse l'ultimo periodo della sua vita e qui dettò le sue ultime lettere in difesa del pontifice legittimo. Da qui, durante la quaresima del 1380, si mosse ogni mattina per ricarsi in San Pietro e trascorrere l'intera giornata in preghiera per la pace e l'unità della Chiesa. E chi l'avesse vista andare avrebbe potuto credere di vedere camminare una morta. Tanto era sfinita, come la stessa attesta in una sua lettera al suo biografo e figlio spirituale, il Beato Re Mondo da Capua, lettera 373. Qui ancora, il 29 aprile 1380, aveva termine la lunga sofferenza di Caterina, il suo martirio per la Chiesa divisa dallo scisma. Nulla sappiamo circa l'aspetto originale dell'edificio di Via del Papa. Doveva essere spazioso se Caterina vi ospitava, oltre ai suoi discepoli più di venti, anche gruppi di pellegrini sienesi. L'unica scarna indicazione offertaci dalle fonti è contenuta in una lettera di Caterina, nella quale sono menzionati una cappella, uno studio e una camera, questa al piano superiore. L'edificio che oggi racchiude la cappella del transito ha subito nei secoli molti interventi d'ampliamento e di ristrutturazione. I più importanti avvennero nel 1638, epoca in cui lo stabile era proprietà dell'Arci Confraternita della Santissima Annunziata. I lavori si resero necessari a seguito della traslazione delle mura e dei mattoni dell'impiantito, nonché dal distacco degli affreschi quattrocenteschi che ne decoravano le pareti. Questi furono divisi, insieme al resto, tra la chiesa di Santa Maria Sopra Minerva e il monastero di Santa Caterina e Magna Napoli. L'iniziativa dello spoglio e del trasporto è da ricondurre al cardinale Antonio Barberini, fratello del pontefice Urbano VIII. Trovandosi completamente disadorna, la cappella dovette subire un radicale intervento di ristrutturazione e decorazione, che fu affidato al Cavaliere d'Arpino. Infine, nel 1989, l'ultimo mercoledì di giugno, la cappella fu trovata invasa dall'acqua e nel 1993 iniziò il primo e più urgente intervento di deumidificazione. I lavori di ristrutturazione, restauro dei depinti e degli stucchi terminarono il 18 ottobre 2000, giorni in cui a cura del dottor Giuseppe Di Paola venne inaugurata la cappella del transito. Vuoi informarti, informarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta RadioNomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visite il sito www.radioromalibera.org